Via libera la copertura finanziaria per la manutenzione delle dighe in Sicilia in arrivo 66 milioni dal Cipe. Operazione The Gift della Guardia di Finanza, riciclaggio e distrazione di fondi pubblici destinati all'accoglienza dei migranti. L'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo stabilizza 141 tra medici, infermieri ed operatori. Buonasera, ben trovati alla prima edizione di Media News di giovedì 1 marzo. Come avete appena sentito nei titoli, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, Via libera la copertura finanziaria per la manutenzione delle dighe in Sicilia. In arrivo ci sono 66 milioni dal Cipe. Vediamo. In arrivo quasi 66 milioni di euro dal Cipe per 9 dighe siciliane. Si tratta di lavori sollecitati recentemente al governo regionale per fronteggiare e risolvere l'emergenza idrica nell'isola. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, Via libera innanzitutto, alla copertura finanziaria per il completamento della diga Pietrarossa, opera strategica a cavallo tra Enne e Catania, una delle maggiori incompiute ultradecennali. Risorse immediatamente disponibili anche per una serie di importanti interventi antisismici che prevedono studi di fattibilità già all'anno in corso e progettazioni entro il 2019. Cantieri da aprire nel 2020, definiti oltre ai finanziamenti, cronoprogramme e tipologie di lavori. Fin dall'insediamento, ha spiegato il Presidente della Regione Nello Musumeci, il governo ha dovuto fronteggiare emergenze decennali ma risolte, a cominciare proprio da quella idrica. Ma ha voluto anche concepire un piano strategico di potenziamento delle infrastrutture in modo tale che fra qualche anno questo attuale stato di crisi possa essere solo un lottano ricordo. Il completamento della diga Pietrarossa rappresenta in particolare un traguardo importante atteso da lunghissimo tempo. E' questa la risposta concreta a tutti coloro che forse non avendo altri argomenti per pretestuose accuse hanno messo in dubbio l'azione tempestiva ed efficace al governo. Adesso, conclude, bisogna passare alla fase operativa. Questi gli impianti interessati al piano. Pietrarossa, cavallo tra Aidone e Mineo, provincia di Enne e Catania, 60 milioni. Il Fanaco, Castanovo di Sicilia, provincia di Palermo, 700 mila euro. La Garcia, Contessa, Entellina, provincia di Palermo, 1 milione. Nicoletti, Leonforte, in provincia di Enne, 1 milione. Paceco, nell'omonimo comune, in provincia di Trapani, 350 mila euro. Piano del Leone, Castronovo, provincia di Palermo, 2 milioni. Ponte Barca, Paternò, 175 mila euro. Rubino, Trapani, 250 mila euro. Scanzano, Piana degli Albanesi, provincia di Palermo, 300 mila euro. Operazione The Gift della Guardia di Finanza. Riciclaggio e distrazione di fondi pubblici destinati all'accoglienza dei migranti. Scoperto un buco nelle casse della Onlus, il dono di Ragusa di oltre 1,6 milioni di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa dieci soggetti per i reati di peculato e riciclaggio, in quanto a vario titolo hanno creato un ammanco di oltre 1,6 milioni di euro nelle casse della Società Cooperativa Sociale, il dono Onlus di Ragusa, che per un decennio ha fornito assistenza ai numerosi centri di accoglienza per migranti presenti nella provincia eblea. I servizi resi alla cooperativa rientravano nell'ambito di convenzioni che la stessa aveva stipulato nel tempo con i diversi enti pubblici presenti sul territorio, in particolare erogazione di pasti, di vestiario, alfabetizzazione e servizi alloggiativi, nello specifico dal Comune di Ragusa, dalla provincia regionale di Ragusa e dal Comune di Modica per un totale di oltre 6 milioni di euro di fondi pubblici. Le indagini svolte alle Fiamme Gialle si sono concentrate sulle gestioni economico-finanziarie della cooperativa, che hanno permesso di far luce su un articolato e complesso sistema distrattivo delle somme. Gli amministratori che si sono succeduti nella carica appartenenti alla stessa famiglia hanno infatti posto in essere innumerevoli condotti irregolari che andavano dalla falsificazione dei libri sociali all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti all'occultamento della maggior parte delle scritture contabili a dipostesi di peculato e di false attestazioni. Proprio la minuziosa analisi della documentazione acquisita presso le banche, presso gli enti pubblici erogatori, presso le società fornitrici di beni e servizi ha consentito agli investigatori di far emergere l'articolato sistema di frodo organizzato e diretto agli indagati attraverso cui, in maniera costante e sistematica, le somme accreditate per le finalità di scopo venivano drenate dal conto cassa per utilità personali di vario genere. Tra le condotte più significative sono emerse quelle relative all'utilizzo di carte di credito personali canalizzate su conti correnti intestati alla cooperativa al pagamento di diverse polize vita a favore degli indagati alla falsa rendicontazione di spese carburante agli omessi pagamenti dei pocket money in favori del richiedente asilo all'indebita annotazione di costi non effettivamente sostenuti. È stato inoltre accertato che gli amministratori avevano emesso assegni per un valore complessivo di oltre 250 mila euro tratti dal conto corrente e la ONLUS a favore di due commercialisti anch'essi indagati a fronte non di prestazioni consulenziali ottenute ma per il concorso e la regia degli illeciti comportamenti finalizzati al peculato. Scoperto un giro di prostituzione straniera nel quartiere Ballaro a Palermo la Polizia di Stato ha arrestato tre donne. La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare disposta dal GIP e il Tribunale di Palermo su richiesta alla Procura della Repubblica nei confronti di tre cittadine nigeriane Bridget Nuoco di 36 anni, Vittoria Alfred di 23 e Mable Joseph di 39 anni a carico delle quali sono emersi gravi indizi in ordine reati di sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione poiché è ritenuta responsabili con diversi ruoli di una casa di appuntamenti nel quartiere Ballaro. Le indagini svolte alla seconda sezione investigativa Criminalità straniere e prostituzione della squadra mobile hanno consentito di appurare che i clienti erano soprattutto cittadini stranieri e le ragazze vittime dello sfruttamento erano prevalentemente provenienti alla Nigeria o da altre nazioni del continente africano. Vi erano poi legami anche con alcuni esponenti della criminalità organizzata nigeriana dedita al reclutamento, all'introduzione clandestina e quindi al susseguente sfruttamento di giovani donne. Gli odierni destinatari della misura cautelare erano vicini a membri del gruppo cultista denominato Black Axe già sottoposti a fermo nell'ambito dell'omonimo operazione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Indagando sullo sfruttamento gli investigatori ne hanno evidenziato l'aspetto violento e prevaricatore scoprendo come le donne erano costrette a prostituirsi a suon di minaccia e intimidazioni. Le ragazze rimanevano imprigionate nelle case di prostituzione perché subivano i ricatti delle mamman che non si facevano scrupoli a lucrare sulle sofferenze delle giovani donne sottoposte al gioco dell'intimidazione avviate alla prostituzione pagando così il prezzo del loro arrivo clandestino in Italia. Gli arrestati infatti prima si adoperavano affinché le ragazze raggiungessero la Sicilia attraverso viaggi estenuanti e pericolosi poi le tenevano legate al ricatto quotidiano al solo scopo di speculare sull'unica attività che le prospettavano possibile prostituirsi. E i carabinieri hanno scoperto un supermarket di merce rubata per un valore di circa 50.000 euro allestito all'interno di un'abitazione nel quartiere Zen 2 a Palermo. Tre ciclomotori, tre cellulari, sei biciclette, di cui tre elettriche, un drone e molto altro è quanto ritrovato dai carabinieri della stazione di San Filippo Neri durante un controllo effettuato in un'abitazione all'interno del quartiere Zen 2. Un vero e proprio supermarket di merce rubata proveniente verosimilmente da diversi furti il cui valore stimato è di circa 50.000 euro. La mercanzia era sposta all'interno delle varie stanze di cui si compone l'abitazione così come i vari negozi di un centro commerciale mettono in vendita i loro prodotti. La lista degli oggetti è veramente lunga e da quelli già elencati se ne devono aggiungere altri. Amplificatori audio, MacBook, lettori DVD e quant'altro possa servire per una postazione da DJ mulinelli ed alta attrezzatura necessaria per la pesca per poi terminare con ben 214 capi d'abbigliamento di una nota casa motociclistica nonché 116 completini da calcio di una squadra giovanile. I conduttori dell'abitazione, due fratelli sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. L'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo stabilizza 141 tra medici, infermieri ed operatori. Da oggi per loro scatta un contratto a tempo indeterminato. Un primo marzo sicuramente da ricordare per 141 tra medici, infermieri ed operatori tecnici e sanitari dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. Da oggi infatti i loro rapporti di lavoro si trasformano da tempo determinato a tempo indeterminato. L'annuncio ai dipendenti è stato dato in diretta dal commissario Maurizio Ericò insieme al direttore sanitario Pietro Greco e al direttore amministrativo Onora Virga nel corso di una affollata assemblea. L'aula della sede legale di Viale Strasburgo nuovo cuore dell'azienda per i suoi momenti importanti era stracolma, pieno anche il corridoio tutti puntualissimi all'appuntamento della direzione. L'attesa era grande e lunghissima dopo anni e anni di precariato in alcuni casi ormai storico l'azienda si prepara al grande passo. Devo ringraziare tutti l'assessore Razza e i suoi dirigenti i sindacati ma soprattutto la mia direzione e l'ufficio personale ha detto il commissario Ericò grazie al lavoro di tutti oggi siamo in condizione di deliberare la stabilizzazione di 141 unità. È un momento importante per tante famiglie ma anche per la stessa azienda e per questo abbiamo scelto di condividerlo qui. Felicità e tanta emozione è bello vedere in ala anche diversi primari venuti ad assistere ad un momento importante dei loro giovani collaboratori. Una festa insomma di tutta l'azienda ospedali riuniti Villa Sofia Cervello che da oggi avrà più serenità e stabilità da mettere al servizio dei pazienti. Dopo aver riassunto l'intero ITER che la sanità siciliana ha fatto per arrivare finalmente all'avvio delle assunzioni Ericò ha dato lettura della delibera numero 382. È stata firmata al termine della cerimonia ed è immediatamente esecutiva. A seguire il direttore sanitario Piero Greco ha letto uno per uno i nomi degli infermieri e dei tecnici stabilizzati. Infine il commissario Ericò ha letto i nomi dei medici. Grande soddisfazione e particolare commozione da parte dei dipendenti presenti in aula. La stabilizzazione arriva in seguito al percorso di ricognizione interna del personale precario in possesso dei requisiti previsti e dalle successive circolari interpretative dell'assessorato regionale alla salute. Nel dettaglio la stabilizzazione riguarda 38 dirigenti medici, 85 infermieri, 6 collaboratori professionali tecnici chimici, 3 collaboratori tecnici professionali informatici, 3 collaboratori professionali sanitari ostetrici, 2 tecnici sanitari di radiologia medica, 2 tecnici sanitari di laboratorio, uno psicologo e un farmacista. Esattamente un mese fa, lo scorso primo di febbraio, erano invece stati stabilizzati 84 ex LSU. Si trattava nel dettaglio di 38 quadriutori amministrativi, 10 operatori tecnici, 20 operatori tecnici informatici, 7 operatori tecnici sterilizzatori, un operatore tecnico archivio cartelle cliniche, 6 operatori tecnici magazzinieri, 2 operatori tecnici servizio prevenzione e protezione. Nel giro di un mese, 225 ormai ex precari di Villa Sofia Cervello hanno quindi ottenuto il posto di lavoro a tempo indeterminato. Per colato a bello lampo, scagionati tutti gli imputati in appello, confermata l'assoluzione anche per l'ex sindaco, Diego Cammarata. Si è concluso con un nulla di fatto il processo per disastro ambientale, avvelenamento di acque, deposito incontrollato di rifiuti, discarica abusiva e traffico di rifiuti che vedeva imputati tra gli altri anche l'ex sindaco di Palermo, Diego Cammarata. In appello sono stati dichiarati per scritti reati contestati all'unico imputato condannato in primo grado, Orazio Colimberti, che aveva avuto tre anni. Per il resto, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva in parte assolto, oltre a Cammarata, i vertici ed una serie di funzionari dell'AMIA, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, e in parte dichiarato prescritte, le accuse loro rivolte. L'indagine aveva ad oggetto lo sversamento di percolato nella discarica di Bello Lampo. Oltre all'ex sindaco e a Colimberti, era imputato anche l'ex liquidatore dell'AMIA, Gaetano Locicero, difeso dall'avvocato Fabrizio Biondo, a cui era stato contestato anche l'abuso d'ufficio. Secondo il PM, avrebbero rimosso illegittimamente il direttore della discarica, Giovanni Guicciardi, contrario alla gestione dei vertici AMIA. Imputati anche l'ex presidente del Consiglio di amministrazione della società, Vincenzo Gagliotto, l'ex direttore generale dell'AMIA, Nicolo Gervasi, difeso dall'avvocato Giuseppe Piazza, e i tecnici della società, Aldo Serraino, Pasquale Fradella, Antonino Putrone, Fabrizio Leone, assistito dall'avvocato Roberta Pezzano, Luigi Graffagnino, e Mario Palazzo. Tutti scagionati dal Tribunale. Nel 2013, la discarica fu anche sequestrata. Al centro dell'indagine, la formazione dell'enorme lago di percolato, il liquido rilasciato dai rifiuti altamente inquinante, che si è formato nell'impianto di smaltimento. Dalle analisi chimiche, era emerso che il percolato si fosse infiltrato nelle falde acquifere e in quattro pozzi privati della zona in cui vennero trovate tracce di solfiti, nitrati e metalli. Il liquame, inoltre tracimato a valle, avrebbe anche inquinato il torrente Celona, che alimenta il canale Passo di Rigano, le cui acque finiscono nel mare del quartiere Acquasanta. In passato, si è anche indagato sullo smaltimento delle ecoballe provenienti dalla raccolta differenziata, che invece di essere dirottate nei centri speciali, sarebbero finite in discarica insieme ai rifiuti ingombranti e ai tronchi delle palme, uccise dal punteruolo rosso. E torniamo a parlare del randaggismo in Sicilia. Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni animaliste, maggiormente rappresentative, e i vertici dei servizi veterinari dell'assessorato alla salute per confrontarsi sul tema. Ne è nata una proficua collaborazione, come ci spiega Salvo Libero Barone, presidente della Confederazione delle Associazioni Animaliste. La ringraziamo per averci raggiunto, nonostante la febbre. L'altro ieri vi siete incontrati con il presidente Musumeci e avete messo a punto quella che sarà una vera e propria strategia per combattere finalmente il randaggismo in Sicilia. Sì, sì. Un bel po' di associazioni, devo dire, sono state convocate e hanno presenziato l'altro ieri alla sala in cui si è tenuta questa conferenza. Dobbiamo dire che siamo abbastanza soddisfatti non solo dell'invito, ma anche per come il presidente Musumeci si è posto nei nostri confronti. Cioè, ha annullato un po' quel gap che c'era sempre tra associazioni e istituzioni, sia nel piccolo, quindi dalle piccole realtà, sia in senso macroscopico. Devo dire che lui si è mostrato molto vicino, non solo disponibile, anche nelle parole e nel modo di dirle. Il problema legislativo è stato da subito affrontato dal presidente. Bene o male siamo stati tutti d'accordo nel ricordare come il vero problema non sia stata tanto una legge che chiaramente è perfettibile, può essere comunque rivista in tanti aspetti, ma il vero nodo è che non è stata mai applicata da più parti, nei comuni, dalle asle e soprattutto da chi avrebbe dovuto controllare, parliamo di Corte dei Conti, il Ministro della Sanità e anche la Regione Sicilia, che per oggi sta dando inizio ad un cambiamento. Sicuramente in ogni comune deve poter esistere una struttura pubblica o privata, ma chiaramente noi siamo per il pubblico perché noi paghiamo la sanità e paghiamo il pubblico, le strutture private ricordiamo che sono purtroppo spesso incontrollate, sempre dal pubblico, quindi noi ci auguriamo che queste strutture ad oggi saranno circa 46, leggendo i dati ministeriali, ma i rifugi sanitari sono addirittura 21. Abbiamo quasi 400 comuni, quindi questo dà l'idea un po' di come il fenomeno, quantomeno dal punto di vista delle strutture, non sia stato affrontato. Però ci sono dei, possiamo chiamarli rimedi, come degli ambulatori che potrebbero essere allestiti o delle ambulanze. Insomma, in questo periodo di emergenza non possiamo certo aspettare che ogni comune crei un rifugio che comporta sicuramente delle spese. Tra l'altro ricordiamo che tanti comuni purtroppo sono in discesso e sono in difficoltà economiche. E' vero sì che non esiste una legge che prevede la sterilizzazione, però è altrettanto vero che esiste una legge che prevede che i cani siano dotati di microchip. Sì, assolutamente. Tra l'altro alle Asle i microchip, lo ricordiamo, sono assolutamente gratuiti. Ultimamente in realtà sono terminati più volte, però è stato un problema, mi auguro, temporaneo. Quindi la gente va invitata assolutamente ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina proprio come se fossero un bambino. Anche per questioni di smarrimenti, di sicurezza, di tutela del proprio animale. Questa mattina alla Cattedrale di Palermo è stato celebrato il precetto pasquale regionale Interforce. La funzione religiosa è stata ufficiata dall'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò. Vediamo. Il messaggio di quest'anno si intreccia nelle tematiche che riguardano propriamente la responsabilità del militare, degli uomini delle istituzioni, degli uomini dello Stato. chiamati a vivere la responsabilità dentro quella virtù che credo si stia un po' smarrendo nel mondo di oggi a causa della cultura che respiriamo, ovvero la sapienza. Io mi soffermerò molto su questo anche perché ritengo che ci sia un urgente bisogno di recupero, di intelligenza, di discernimento, capacità di comprendere il bene, il male e quindi di scegliere il bene. Ritengo che questa sapienza sia quanto mai urgente per ristabilire quell'ordine che è prima di tutto comprensione della verità a livello di creato, a livello di rapporti interpersonali. Vedo un creato che viene minacciato da una volontà umana che non riesce a comprendere la sua vocazione. Vedo una famiglia, quella umana, quella italiana, le famiglie, italiane che hanno bisogno di recuperare l'autenticità del e nel rapporto e quindi è su questo che si basa il messaggio della Quaresima. D'altronde Dio che si fa uomo assume l'umanità e per l'umanità dona tutto se stesso fino alla morte è l'esempio massimo di una sapienza che comprende la verità delle cose e che per questa verità è pronta a pagare. Dire Pasqua è dire Pasqua di resurrezione cioè è un umano che risorge è una intelligenza che viene raggiunta dalla luce e quindi è speranza di nuova civiltà ed è speranza di futuro vivibile e credibile. Un modo per fare comunità? Sì, le nostre forze armate sono un punto di eccellenza a livello internazionale non soltanto per il loro impegno nei vari teatri operativi imbarcati nella difesa degli interessi della collettività nazionale internazionale ma anche soprattutto grazie a delle famiglie che sopportano e supportano i nostri militari in un contesto sempre più impegnativo e difficile quindi questo precetto pasquale io vorrei dedicarlo proprio alle nostre famiglie alle famiglie dei militari e alla famiglia militare in generale. Noi siamo liete e onorate di partecipare oggi al precetto pasquale interforze il comandante di presidio l'ammiraglio De Felice ha voluto fortemente la presenza delle infermiere volontarie e noi siamo presenti in un giorno come questo commemorando appunto le imminenti festività pasquali. Domani pomeriggio alle ore 18 alla sede dell'Auditorium Rai a Palermo sarà presentato il nuovo libro dello scrittore palermitano Alessio Arena dal titolo Campi Aperti ascoltiamolo. Si tratta della mia quarta raccolta di poesie questa volta edita da Edizioni Ex Libris di Carlo Guidotti un editore appunto che ha da poco rilevato questa casa editrice palermitana e la mia quarta raccolta fin dal titolo io ho voluto sottolineare ancora una volta una mia ferma avversione nei confronti di qualunque confine fisico ma anche concettuale qualunque barriera disciplinare che limita inevitabilmente non soltanto il pensiero umano e la possibilità di espansione di movimento dell'uomo ma anche le innumerevoli possibilità d'essere che ogni essere umano ha e che deve necessariamente valorizzare ho voluto affrontare questi temi attraverso il genere che mi è più vicino più congeniale che quello della poesia e lo presenterò domani all'auditorium RAI di Palermo in Viale Strasburgo 19 alle ore 18 Cosa c'è di diverso rispetto alle altre pubblicazioni? Allora rispetto agli altri libri è inevitabile che ci sia un cambiamento sicuramente da un punto di vista tematico e sicuramente un lettore attento noterà anche delle differenze stilistiche che è inevitabile nel percorso di un autore anche quando si tratta di pubblicazioni comunque vicine perché il mio libro precedente è uscito meno di un anno prima di questo questo è uscito a dicembre e l'altro veramente pochi mesi prima è chiaro che ciò che mi interessa che arrivi al lettore non è soltanto appunto un insieme di domande ecco ma una combinazione ecco di di ecco di risposte anche risposte sbagliate che appunto possono mettere in crisi le nostre convinzioni e anche le mie ciò che cerco essenzialmente è un dialogo un dialogo con un pubblico di lettori nella speranza ecco di capire qualcosa ecco ancora una volta di questo tempo e di farlo attraverso un genere che io concepisco inevitabilmente come arte è tutto grazie per l'attenzione come sempre vi do appuntamento alla seconda edizione grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.